Netanyahu ha gettato la maschera, mai uno Stato palestinese, questo significa una dichiarazione di guerra e significa anche peggio, non mi faccia parlare perché sono ebreo. Ma la vittoria di Netanyahu dimostra che per vincere le elezioni in Israele bisogna dire mai uno Stato palestinese. Questa non è la chiave dell'arimento a Netanyahu, questa è la chiave della catastrofe per Israele, perché è un paese che crede di costruire il suo futuro sull'imprigionamento, vessazione, tormento di un altro popolo a cui viene negato il diritto all'identità, alla cultura, è una cosa gravissima. Israele non verrà distrutto da nessun paese arabo, Israele verrà distrutto dal di dentro, dai suoi governanti.